Tutti inizio oggi è una serie dedicata al nuovo Pentiment che è l'ultimo gioco dell'Obsidian, una mitica casa specializzata in rpg, il gioco ha preso rpg per dire hanno fatto nary winter night 2, star wars hit lord, fallout new vegas, tra l'altro il primo star wars all the republic l'ha fatto la bioware, loro hanno fatto il secondo, così come fallout 3 l'aveva fatto bethesda e loro hanno fatto new vegas e in entrambi i casi questi due successori sono considerati i migliori del primo. Poi avevamo fatto dungeon siege 3, hanno fatto anche south park, stick of truth, i due pillars of eternity, hanno fatto recentemente grounded, hanno fatto tyranny, the other wars, e stanno lavorando a wowed, anche questo è un rpg in prima persona, tra l'altro non lo sapevo stanno lavorando anche a other wars 2, o per lo meno non me lo ricordavo, ma non sono proprio dei signori nessuno, ma infatti anche il gioco stesso è particolare, è una specie di avventura grafica in cui conta molto le scelte che vengono fatte e è un po' investigativo eccetera, ambientato nel medioevo, con anche una grafica che ricorda gli stili dei pittori di quell'epoca. Dicevo il gioco in realtà ha già moltissime recensioni e la media è 86-87, quindi insomma è stato molto ben accolto. Vediamolo, nuova partita, nuova partita. La prima sequenza è molto carina, io ho fatto come al solito le mie prove, la prima sequenza ricorda molto, perda un pochino magari sul fatto che il personaggio scolla, stacca un po', stacca un po', stacca un po' dallo sfondo, sembra un po' in flash come dire. Comunque, ti lascio la possibilità di usare due tipi di font, i propri, cioè quelli originali, diciamo così, che si associano al tipo di personaggio, per esempio se è un contadino, se non scriva, eccetera, eccetera. E tra l'altro c'è anche un'altra cosa carina che ho visto, che per esempio quando parla al contadino a volte escono degli errori, che vengono corretti tipo un paio di secondi dopo. Cioè, non so, sparisce una lettera e viene la lettera giusta. Io vorrei usare quello, per intanto. Ok, non so, fai stavolta già automatici dopo determinate scelte, io ho già fatto pochissimo, giusto per vedere appunto che tutto fosse ok. Questa è una cosa che ho trovato strana, cioè c'è una pietra, praticamente devi cancellare l'immagine, è come se tu facessi la tua storia da capo, no? Pietra, cioè, se fossi, vabbè, che la pietra cancelli non lo sapevo. Ok, qua c'è tutta la presentazione. Sono gomme nere. Lui dice pietra perché mi ricordo che... Ah sì. L'unica gomme nere che ricordo non quella a forma di rotella esagonale. Ovunque in mezzo, sembrava una specie di ruota, molto, molto bassine. Non so se... Stiamo parlando di 40 anni fa. Quindi, non so se esistono ancora. Poi di solito ci sono verdi, me le ricordo verdi, me le ricordo bianche. Nere. Cioè, il fatto sta che comunque la prima volta ho guardato con lo stesso asso, che ciavo, no? Io premevo A, ma non ho pensato di tenere premuto A. Dovete tenere premuto A, perché sennò non cancella. Ma il discorso del cancellare, non mi sembra mai venuto in mente. Lo Claudio, perché noi siamo in live, dice... Comunque quando si parla di storia antica, sono in prima linea. Vediamo. Sacro Romano Impero. Tu sei anche un appassionato, visto che parli di giochi... Sei anche un appassionato di giochi tipo Crusader King. Mente di un artista. Ecco qua c'è proprio la classica prospettiva... dell'epoca. Non so se lo sapete, ma più o meno la prospettiva nel disegno artistico è stata più o meno inventata in questo periodo del Medioevo. Ed era piuttosto... sballata in realtà. Non era ancora perfezionata. Come si vede dalla torre qui a fianco, è assolutamente sbagliata. Non c'erano i concetti veri e propri, ancora delle vie di fuga, no? Dal punto in cui proiettare le linee e gli incroci. Questo è proprio il disegno tecnico che si fa anche alle medie, no? Ok, non se ne ho passato esattamente quei giochi lì. Mentre invece Matteo mi dice che Kingdom Come Deliverance l'aveva finito. Anche con tutti i suoi bug. Non lo so, però sai, il discorso che facevo io è che quando certi giochi hanno tanto testo da leggere non tutti... ma non tutti piacciono, no? Comunque, ecco, una cosa. Ho visto che si può più o meno anche impersonare un carattere. E io sto quasi quasi pensando di essere un po' impertinente, diciamo così. Poi, sai, è un artista. Allora, in teoria il gioco si presta più run, è rigiocabile, insomma, no? In modo da fare percorsi in teoria diversi. Poi, non so quanto siano diversi, sono sempre lì. Quando ti propongo questa cosa, poi bisogna dire finché punto è vera, no? Però dicevo, boh, è un artista dovrebbe essere appunto uno spirito libero e quindi un po' impertinente anche nel confronto dell'autorità. Vediamo. Come... come butta. Poi magari un'altra volta, se mai lo si farà, sarà un santo. Anzi, tra l'altro, questa cosa qua penso che potrebbe piacere a... Avevi il G, se non che poi lui non ami particolarmente questi giochi, quindi. Comunque, e l'abate mi disse Andreas! Allora, qui abbiamo già tre scelte, ma di solito sono sempre... tipo tre. Non voglio che tu distragga le sorelle in biblioteca, ho bisogno che tu finisca questo lavoro entro la fine aprile, limita il più possibile le tue conversazioni con fratello Piero. Fratello Piero, inteso come monaco, presumo. Poi qua è sottolineato, vuol dire che è un personaggio importante, non so. Ma è già corretto un errore. Sì, infatti. E lui in teoria non è... Diciamo così, un analfabeta. Comunque, cosa facciamo? Che tu distraiga le sorelle in biblioteca? Facciamo questo. Se siamo impertinenti vuol dire che ci stavamo provando con le sorelle. Non lo so. Vediamo così, c'è. Eh, sta di nuovo facendo il lavoro del diavolo, vero? Non incoraggiarlo, dice Beatrice. La dedizione a proprio lavoro conduce ai piaceri della mente, ben superiori rispetto a quelli del corpo. Abbiamo addirittura Socrate. Che tempi bui, sì. In realtà sai che anche qualcosa lì è una leggenda metropolitana costruita da arte, dai moderni, diciamo così. Perché in realtà, se andate a cercare sul Medioevo, ci sono fior di libri di storia che ti spiegano che non era questa cosa brutta e orribile, e che tutti erano, come dire, casti e no, se la divertivano alla grande e basta. E facevano, insomma, una buona vita, anzi. Però sai, c'è questa cosa di dire, eh, ai tempi... Cioè, di dire che appunto il Medioevo fosse oscuro, no? Per magnificare il presente, no? Come se il presente fosse perfetto e... L'ho ignorato che è esattamente ciò che meritava il suo commento. Facciamo questo qua. Cioè, proprio un personaggio un po'... Non è colpa mia se Dio mi ha fatto così bello. Questo è sangro grobiano, che bisogna capire se tra l'altro è esistito, davvero. Sì, se si parla di oscurità, di oscurantismo, appunto, e non più queste cose qua. Cioè, ciò che hanno fatto per esempio la Chiesa, nel caso delle innovazioni scientifiche e in generale per tenere salda la dottrina, no? Cioè, ma non... Ma il popolo non se lo passava così male come sembra, ok? Anche perché... Leggevo che anche la povertà, no? Che pensavo che tutti morissero di fame, affamati. In realtà era molto... È più facile morire di fame oggi, nel senso che all'epoca era... C'era molto più solidarietà. Quindi non c'era questa povertà o gente che moriva di fame, sostanzialmente. O non c'era anche cosiddetto stupido del villaggio, non era trattato con bullismo come farebbero oggi a uno che magari non è nemmeno uno stupido del villaggio, per capire. Ok, Matteo è andato a cercare, dice che esiste ed era proprio un santo giocorellone e impertinente. Abbiamo la spalla nostra, ok. Sei insopportabile. Ahimè, a differenza di quanto veniva ai miei tempi, questa fede cristiana non vede di buon occhio il desiderio. Questa fede cristiana perché lui era nell'epoca del paganesimo. Forse questo desiderio per te insegnerà loro ad apprezzare di più la bellezza. E quindi smettono di essere sorelle. Giusto, la prossima volta prova a dirlo alla Bata, Andreas. Chi paziente sopporta l'irida della Bata e presto avrai finito l'opera che ti ha commissionato e con essa il tuo capolavoro. Quindi tornerai a Norimberga. Dove ti aspettano, non dico niente, ce ne sarebbe bisogno, dico solo questo, oggi. Comunque, dove ti aspettano il matrimonio e la tua nuova vita da maestro. Matrimonio con una donna che non l'ha mai incontrato, non è certo l'ideale. L'alternativa è diventare filosofo. Ma che tipo mi dici essere filosofo e divertirti? C'erano le cose che si chiamano i... Gli esteti, ma quello che... Adesso non mi ricordo, non mi viene il termine. C'era proprio una dottrina filosofica che metteva in risalto il godersi la vita. Ma adesso non mi viene il termine a questo momento. Comunque, Gesù, allora devi assolutamente sposarti? È carina almeno? Vedi che... Cioè, mettono un po'... È proprio impertinente, vedi che non dovrebbe neanche usare la parola Gesù. Allora, è ciò che ha scritto mio fratello nella sua lettera, ma forse stavo solo cercando di risolvermi il morale. Adorabile, aggiudicare dal piccolo ritratto che ho ricevuto, ma noi artisti sappiamo essere degli ottimi adulatori nella nostra opera. Cioè, praticamente, potrebbe essere disegnata totalmente... E chi lo sa, in ogni caso non è per questo che lo faccio. Vabbè, scegliamo questa. Si sta facendo tardi, ruota del tempo, non si fiavano per nessuno. Andreas, temo che tu debba lasciarci. È vero, maestà. Volverai presto a farci visita? La chiama maestà e si chiama Prete Gianni? Sì, 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 chiaramente. Eh, non credo che fosse... Cioè, voglio dire, era il fotoritocco dell'epoca, no? Anche se, sai, erano... Ecco, edonismo è come è venuto il termine. È una società meno edonistica di oggi, in realtà. Meno narcisista. Oggi, tu considera che fino a una certa epoca, e tra l'altro, credo anche piuttosto avanzata, non c'era nemmeno lo specchio. Quindi non aveva neanche modo di vederci noi. Cioè, tu non hai uno specchio, non ti vedi. Non c'è niente da fare, ok? Al massimo, se c'è l'acqua proprio calma in un laghetto, vedi un'immagine riflessa, ma non è che ti vedi bene, perché ci sarebbe tutte le ombre, non si vede bene, no? Finché non hai uno specchio vero. Oggi è l'epoca in cui siamo, come anch'io, con il telecamera, quindi siamo continuamente... Abbiamo continuamente la nostra immagine davanti agli occhi, in un modo o nell'altro, no? Comunque nella memoria. E qui nella società che ha puntato molto sull'estetica. Quindi all'epoca, secondo me, tutto chiamato, li ritraevano anche fedeli, alla fine. Cioè, non è che c'era proprio come adesso, che fanno i futuri tocchi apposta, no? Tornare presto? Spero di sì, ma è una cosa che esudo dal mio controllo, maestà. Non lo so, maestà? Beh, immagino che non sempre sognerò di visitare questo logo, maestà. Ecco, facciamo gli impertinenti. Naturalmente, se domani... Vorrei vedere se si arrabbiano, tra l'altro, anche perché ci sarebbe curioso vedere se si arrabbia qualcuno a essere un po' stronzi, no? Naturalmente, se domani sera non sarai qui, prego che tu sia in un posto altrettanto accogliente. Lui non sembra che si sia scomposto. Grobiano, per favore, assicurate che Andreas giunga a casa sano e salvo. Prete Gianni. Certo, maestà. Tra l'altro, sembra vestito a giullare... Anzi, è vestito a giullare. Ed è un santo. Perché è un santo dopo. Non in quel momento. Però si chiama santo, comunque. A presto. A presto, maestà. Minora gli altri folli, Andreas. Faccio sempre. Mi ha pestato il piede. Almeno potrei provarci se la smettessero di dar... B, B da armi. D da armi dei pestoni. Dove mettete i piedi? Si stanno menando, tra l'altro. Sono dei poveri folli, Andreas. Non ha senso cercare di insegnare loro qualcosa. Sì, in realtà sembra un girone dell'inferno, sì. Lo stile è proprio quello. So che il vecchio Peter Gianni vorrebbe che tutelarassi tutte le stronzate. Vabbè, ho sboccato dell'abate. Ma, poiché sono io ad accompagnarti a casa, l'ultima però l'aspetta a me. A parte mettere i piedi in testa da lui, ragazzo. Ma in realtà mi ha messo i piedi sui miei piedi, non in testa. No, l'abate non può comandarmi a bacchetta. Sta solo cercando di mantenere l'ordine nella bazzia. Dopotutto io sono un estraneo. Questo sarebbe gentile, per esempio, no? È tutto a posto, non voglio causare problemi. No, l'abate non può comandarmi a bacchetta. Questa è musica per le mie orecchie. Ora abbiamo proprio il partner. Sì, sembra. Sembra un viaggio su un treno super affollato. Ah. Ma tu di dove sei, Claudio? Per favore, potreste me... È in rosso la... Gentile questo qua. Possiamo buttarlo fuori bordo? Mi arrendo. Portimi a casa, Gorbiano. Cos'è? Fa così e siamo a casa? Come desideri, Andrea. Morto. Provincia di Pavia. Ah, ok. Matteo è la nostra guida culturale, storica. Ci dice che Fritte e Gianni erano un importante imperatore cristiano orientale. Un bizantino, quindi. Buongiorno, Ursula. Buongiorno, Andessa. Vediamo se corregge qualcosa, no? Ma questa è una bambina, quindi. E' ora di alzarsi. Capitolo 1, il barone, aprile 1518. Qualche pagina in più torna alla Abbazia. Ma con un mix vedo le missioni. Un altro giorno altre pagine per l'abate e si spera qualcuna per me. Devo attraversare la città e dirigermi alla Abbazia per iniziare a lavorare nello scrittorio. Poi ci siamo noi. Mahler. Andreas Mahler. Nuremberg. Quindi presumo che non sia italiano. Probabilmente tedesco. Poi c'è la mappa. Come siamo la fattoria dei Gertner. L'abate e la Abbazia. Era l'abate e quindi non è là. Poi. Fratello Piero da Verona. Miniatore della Abbazia di Riversau. Noto per la sua gentilezza e la sua disponibilità. Fratello Piero è anche un rispettato maestro pittore. Specializzato in opere cromaticamente straordinarie. Poi abbiamo il glossario. Nuremberg. Città libera e sacro romano impero. Importante centro commerciale e artistico. Sede anche di vari laboratori di stampa. Ma la Germania anche prima che venisse il nazismo era considerata luogo di civiltà. C'è questo qua sopra. Ok. Quindi possiamo vedere le mappe qua. Passing. Non so perché possiamo vedere le mappe di posti che non abbiamo ancora visto ma. No. Sarebbe carino? Non lo so. Non ho idea. Si parla di investigazione. Sarebbe carino se fosse una specie di nome della rosa. Per esempio. Si dice che il santo graal sia stato portato nel suo regno. Di prete Gianni. Ok. Interagisci. Il Picatrix. La chiave è il Salomone. Leptameron. Il Pirore Perenc. Continua a... Darmi tutti questi libri da leggere. E' passato via veloce. Dovei davvero dare una bella pulita. Siamo ospiti qua immagino perché quanto pare... Allora. Andrò... Andrò... Per sembro lì? No. Questo esce. Allora. Poi mi sembra che c'è Ypsilon. La mappa. Ok. Si può anche ingrandire? Ok. Eh. Ho fatto una prova proprio veloce. Cara. Buongiorno Andreas. Hai dormito bene? Benissimo. Grazie. Abbastanza. L'importante è dormire. Non molto. Ma che vuoi farci? Ok. Non molto. Ma che vuoi farci? Ok. Mi dispiace Andreas. Posso cambiare la paglia del materasso se lo desideri? Che poi tra l'altro non è nel mio carattere essere stronzo quindi un po' mi sento a disagio da una parte. Dall'altra ho sempre paura che in realtà quando tu fai tra virgolette il cattivo ti perdi qualcosa no? In questi tipi di giochi. Non preoccuparti. Lo apprezzerei molto. Grazie. E anche tu... Matteo dice che si fa metà e metà. cioè non farlo... Non far troppo il cattivo. Apprezzerei molto. Grazie. Così che si fa... Che non si fa il cattivo. Ad ogni modo so che andrei alla bazzia. Quindi ti ho preparato del cibo. Lei ha... Ha glissato. Mandola e formaggio e un po' del pane di segale che ti piace tanto. Quello degli alban. Poi mi ha detto di riferirti che ti invita a cena con lui alla bazzia. Vabbè. Ok. Eva dice... Otto è passato di qui? C'è un interesse speciale per... Sì. Verso l'alba. Da dove l'ha fatto uscire? Quella cosa lì? Ecco qua Andreas. Qui ci vorrebbe il suono... Il verso che fa sempre... Pirio, no? Cioè che è proprio... Claudio mi chiede... Quando giochi a questo genere di giochi tu cerchi di seguire il carattere del protagonista? Sì. L'ho fatto anche con... Walking Dead. Cioè cerco di decidere uno stile. Poi cerco di mantenerlo. Infatti avevo fatto proprio la run... Tra virgolette da buono. Avrei voluto fare quelle... No, avevo fatto la run che io ho chiamato da opportunista. Cioè appunto uno che... Non è proprio cattivo ma comunque è lì al limite. Ok. Poi sarebbe... E' carino... Ma si chiamano RPG a volte, no? Quindi. Ecco. E Claudio dice... Io di solito scelgo le risposte che darei io. Esattamente in realtà. Allora. Tendenzialmente è quello che faccio anch'io. Cioè... Sono giochi di ruolo ma io anch'io cerco di... In realtà interpreto me stesso. In quel mondo. Ok. Penso che sia la cosa che facciano... Nella maggioranza delle persone in realtà. Anuisci. E' per quello che mi mette un po' disagio. Questo è l'Andreas. Se non ti è troppo di stupro potrei... Cioè potresti... Sarebbe un problema per te pagare... L'affitto del mese prossimo oggi. E qui quando ho fatto questa prova... Perché ero arrivato qua praticamente. Ho solo messo il piede fuori da questa casa. Non mi ricordavo che ci fosse quel... Quel dubitare lì. Mi chiedeva subito se potevo pagare la... Potrei ricordarmi male perché l'ho provato... Mi sembrava che non fosse così titubante. Come per dire che adesso è messa un po' in soggezione. E tra l'altro anche dal punto di vista del... Del game design. E in questo caso proprio del sceneggiatore. Sarebbe più carino. Io tante volte ho pensato di fare un gioco magari piccolo. Quando volevo fare i videogiochi. Fare un gioco magari piccolo ma... Altamente rigiocabile in questo senso. Cioè con veramente tante variazioni. Quindi magari il gioco dura due ore. Però lo puoi giocare cinque volte. E ottenere completamente cose diverse. Matteo invece dice che per come è fatto lui. Anche se avesse dormito di M. Direi tutto bene. Eh sta un po' a carattere. Comunque. Allora. E. Se lo aumentassimo di due grossi. Boh si vede che è la moneta dell'epoca. A Nuremberg. Detesto dovertelo chiedere ma siamo in ritardo di due mesi con il pagamento delle tasse per l'abazia. Perché si facevano mantenere. Questa cosa qua vale anche per i monaci buddisti per esempio. Non si dice mai no. I monaci buddisti in realtà si fanno mantenere. Dalla gente che... Che loro... Dalla gente che è del villaggio sostanzialmente. Peter sta perdendo i capelli per questo. Più del solito. Intendo. Allora ma certo non è affatto un problema. Poi non vogliamo certo che Peter perda tutti i suoi prezzi di capelli. Perché avete visto che proprio ci sono le scelte gentili. Gentili proprio. Oppure quelle appunto un po' stronzette. Suppongo che non sia impossibile. Si penso un po' più neutre no? Non posso promettere nulla. Vedrò cosa riesco a fare. Beh. Io. Aspetta queste tasse non erano previste? Andiamo a chiedere questo. Peter dice che la nostra tasse sono rimaste uguali per anni. Ma da quando ci siamo sposati non fanno che aumentare. Un tempo se non avevamo i soldi potevamo pagare in natura con parte del nostro raccolto. E infatti si faceva così. È la cosiddetta decima no? Dall'anno scorso l'abate ha revocato questa possibilità. Ora se non otteniamo un buon prezzo dal mugnaio è difficile dare alla bazzia la sua parte. Magari se noi non rispondevamo così non vedevamo questa spiegazione. Per esempio. Un magari ovviamente. So che non è un tuo problema Andreas. È Peter troppo orgoglioso per chiedertelo lui stesso. Resti così gentile ad aiutarci. Allora. Facciamo così. Impertinente sì ma non proprio stronzo stronzo. Cioè nel senso dare un po' questa cosa dello spirito libero. E comunque non troppo educato perché anche io non sono troppo educato. Nella vita reale. Anzi. A volte invidio un mio amico per la buona educazione che lui ha. Che riesce a mantenere. Perché io in realtà come carattere sono piuttosto diretto. Quindi. Ma certo non ha fatto un problema. Suppongo che non sia impossibile. Sì penso di potercela fare. Non sappiamo come ancora. Te ne siamo molto grati davvero Andreas. Scusami ancora per aver te l'ho chiesto. E' orribile ritrovarsi in una posizione del genere. Orribile addirittura. Peter lavora sodo ma sembra che non basti mai. San Luca ti benedica per averci aiutato. A proposito di San Luca. Come sta venendo il tuo capolavoro? Sono passati due mesi non è vero? Procedere lento. Temo. Trascorro gran parte della mia giornata. Sbrigare lavori per l'abbazia. Lavori di che tipo? Il priori è Ferenc. Ma Ferenc non è un nome francese forse. Mi permette di dedicarmi al mio capolavoro solo durante la liturgia delle ore. Cioè può darsi che un'abbazia abbia personaggi diversi. Cioè monaci di diverse località e nazioni no? Matteo dice lavoretti tipo spalare le tame. Una restrizione ragionevole ma che rallenta il mio lavoro. Ecco qua per esempio non era stronzo lui. Cioè quello era fuori nostro controllo quello che ha detto lì. Il consiglio comunale non ha richiesto un capolavoro. Lo sto facendo principalmente per mostrarlo ai clienti e per me stesso. E sì quando finirò tornerò a Norimberga. Dove mi sposerò aprirò una mia bottega. Dov'è che stiamo scusa adesso? Fuori? Fuori da Norimberga? Da Norimberga l'università è ora in giro per il mondo come miniatore. Non so ho parlato in municipio adesso in realtà. Sembra che abbiamo una commissione municipio per fare una cosa all'abbazia però. Comunque in generale. Non so perché stia lavorando per l'abbazia lui. Chissà cos'altro ti riservarà il futuro maestro Andreas. Già ho proprio la sensazione di stare iniziando un nuovo capitolo a mia vita. Dopo qualche passo falso, molto giro da gare, un po' troppo divertimento ok? Un po' troppo divertimento. Essere angosciante? Ah addirittura ricominciare tutto a capo. Dipende. Se ho ancora la possibilità di fare qualcosa della mia vita lo devo alla mia famiglia. Sì è così ma adesso so cosa voglio fare e lo farò. Vai. Era ricordato. Allora qua. Non molti hanno la possibilità di scegliere. Di certo nessuno ce l'ha qui a Tassing. Ok è un villaggetto però saremo nei pressi. A proposito. Matteo dice intanto pubblicità di Amazon che mi consiglia una cintura medioevale a 54 euro. Una cintura di castità medioevale. A proposito. Non me ne intendo di arte ma ti ho visto fare dei disegni stupendi sul tuo tacuino. Il tuo capolavoro sarà magnifico. Lo è? È la più bella delle mie opere. È sulla buona strada? Beh è difficile a dirissi perché lo è. È la più bella delle mie opere. Uno sicuro di sé. Bene ogni tanto fa piacere vedere uomini sicuri di sé da queste parti. Quindi il tuo marito non è così evidentemente. Ora devo tornare al mio lavoro. Donata la bazzia. Andrea ci vediamo per cena dopo i Vespri. Ma te non hai il Prime adesso? Non ce l'hai ancora disponibile? Se è scaduto è perché dovresti essere anche disponibile. Poi non so. Ti ringrazio ma stasera non posso. Sono stato invitato a cena da Klaus Drucker. Ma Klaus dovrebbe avere la K però. Nessun problema assoluto di Drucker da parte nostra. Naturalmente a presto Clara. Vediamo se c'è qualche omicidio o qualcosa del genere. Con questa possiamo parlare. Vabbè Andreas. Basta niente. Non dico cosa è venuta in mente quando ho letto Eva ma... Tanta Klaus è quella C. Ok però ti assicuro che Klaus ha la K però a meno che non ci sono entrambe le varianti. Hai capito? Non posso scendere? Non posso scendere sono su un binario. Non posso scendere.